Catania, situata sulla costa orientale della Sicilia, vanta una storia epica piena di avvenimenti leggendari e momenti significativi. Fondata nell'Ettimo secolo a.C. dai Greci, la città ha subito numerose dominazioni nel corso dei secoli, tra cui quelle romana, bizantina, normanna, aragonese e spagnola. Questa variegata storia ha lasciato un'impronta indelebile sulla città, che si riflette nell'architettura, nella cultura e nelle tradizioni. Durante il periodo greco, Catania divenne un importante centro commerciale e urbano, con un'economia florida è una ricca produzione artistica e letteraria. Tra le personalità più illustri di questo periodo si annoverano il poeta Teocrito e il matematico Archimede. Successivamente la città visse periodi di grande prosperità, ma anche di profonde crisi, come durante le eruzioni dell'Etna e i periodi di dominazione straniera. Oggi Catania è una città vibrante e affascinante, ricca di monumenti storici, chiese e palazzi antichi. La storia di Catania è una storia di resilienza e adattamento, di influenze e contraddizioni, che rendono questa città un luogo unico e affascinante da esplorare. La sua storia d'epoca è una testimonianza della sua forza e della sua capacità di trasformarsi nel corso dei secoli. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscriviti al canale Giovanni Privitera Official.